Qua, 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 per e pe, politici italiani che, per e pe, qua, 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 per e pe Tu faresti mai il politico di professione? Non credo No, sinceramente no 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 Assolutamente no No Assolutamente no Sinceramente no E perché? Ho altre aspirazioni nella vita Perché sono troppo onesta Troppi interessi personali sotto Perché sono troppo onesta Non dico che non è importante ma è una cosa che non mi interessa Perché sono troppo onesta Quanti politici sono tutti quelli che ci sono fanno il loro dovere E non per guadagnare o per andare con delle belle ragazze eccetera eccetera Non c'è più la politica sincera e sana di una volta Alla fine sei costretto a fare solo i tuoi interessi Non c'è più la politica sincera e sana di una volta E un tempo era veramente sana e sincera? Sì, è tempi di Platone e Aristotele forse La tua aspirazione? Generalista sportivo Ho interessi più artistici, sono un po' farfallona se vogliamo Preferisco la parte letteraria piuttosto che l'impegno Farfallona se vogliamo Ma non lo so, la musica, leggere, andare in giro Qua 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 per e pe Politici italiani che Per e pe qua 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 per e pe Per e pe... ... Grazie a tutti